DCN Music, lo studio di registrazione cristiano Dio con noi a Bagheria, Palermo, offre alle comunità e a tutti coloro che hanno il desiderio di cantare delle nuove lodi al Signore Gesù con il proprio talento musicale, numerosi servizi tutti dedicati al mondo della musica e la possibilità di vedere realizzato un arrangiamento completo dai nostri musicisti nella fede, che vi aiuteranno nella composizione del vostro cantico. Anche semplicemente cantando le vostre idee musicali Creeremo un CD professionale completo di grafica e servizio SIAE E possiamo partire anche da sole 10 copie E se avete un gruppo musicale, disponiamo di un'ampia sala prove Effettuiamo corsi di canto moderno, chitarra, pianoforte, violino, basso e batteria Con vendita di strumenti musicali, amplificazione di ogni tipo e sistemi di insonorizzazione per chiese, teatri, eccetera Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet www.dcnmusic.com O chiamate per un preventivo personalizzato e gratuito al numero 091-7726410 Radio Fede Italia La radio ti ispira la tua fede Radio Fede Italia Radio Fede Italia Radio Fede Italia